Ciao, io sono Federica Milone e questo è il mio messaggio a tutti i popoli del mondo, italiani e birmani in particolare, oltre la paura. Hi, my name is Federica Milone and this is my message to be close to all people across the world, Italy and Myanmar in particola, beyond any fear. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.